In riferimento alle attività di diserbo che negli ultimi giorni si stanno registrando sul territorio cittadino e evidenziate dai social oltre che dal neosindaco Luigi Mennella, ai microfoni di TV City le dichiarazioni del consigliere comunale di opposizione Luigi Mele, già consigliere dell'uscente amministrazione Palomba, che interviene sulla questione per chiarire gli effettivi termini del piano di diserbo nella città di Torre del Greco. Erano attività che già avevamo previsto noi durante i tavoli tecnici che facevamo con la ditta. Nel capitolato della nettezza urbana ci stava una quota parte, che erano 5.000 ore, di diserbo che la ditta come miglioriva aveva offerto al Comune di Torre del Greco. Proprio per una questione di onestà intellettuale, che qualcuno in questo momento vuol dire che vuole far capire che non abbiamo, avevamo conservato queste ore in questo periodo, che è quello più difficile per far sì che si potesse diserbare la maggior parte della città. Il sindaco attuale non ha fatto altro che quello che facevamo anche noi. C'è stata per esempio, per fare un esempio, a Cappella Bianchini, la festa del Sacro Cuore, chiaramente in questo periodo, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, si è stata riserbata tutta la zona. Quindi faceva parte del programma, magari con date diverse, quindi si anticipa una strada rispetto all'altra, ma alla fine non è stato fatto nulla di straordinario, nulla di eccezionale. Una precisazione nata non per critica nei confronti dell'amministrazione, ma soltanto per precisare la verità dei fatti, così come documentata. Il MIA non è una critica assolutamente, è una precisazione. Molti dicono, lasciamo il tempo per poter fare, per poter iniziare a lavorare. Nessuno sta dicendo questo, assolutamente. E però deve essere chiaro ai cittadini che se non avevamo pensato noi a lasciare questo budget per questo periodo, sicuramente in questo momento la città e anche Palazzo Baronale, che il sindaco si è voluto così, in maniera fiera, voler capire che lui ha provveduto subito a pulire Palazzo Baronale, anche quello era previsto in questo periodo, chiaramente, per dare la possibilità a chi soffrisce di Palazzo Baronale di poter stare in condizioni decenti. Non è mancato da ultimo anche un passaggio sul paventato ritardo nella formulazione della Giunta e sull'apparente attendismo del primo cittadino. Questa è un'altra cosa chiara ed evidente a tutti i cittadini. Dal momento in cui è stato eletto, è stato proclamato sindaco, non si è visto più per strada, non è presente più in città e credo che più di 20 giorni per completare una Giunta, per uscire con i nomi della Giunta, sono tantissimi. In questo momento la città ha bisogno della presenza della politica sul territorio, ripeto, proprio perché gli uffici sono abbandonati a se stessi, sono pochi i lavoratori che sono ancora rimasti, quindi c'è necessità di mettere in campo subito delle azioni importanti, quali concorsi e tante altre cose, soprattutto per anche i fondi PNRR. Anche su questo è necessario darsi subito una mossa. Se un sindaco vuole dimostrare il cambio di passo, in questo momento non si vede alcun cambio di passo.